Capodanno nei pressi dei cancelli dell'azienda per i lavoratori della Treofan che da giorni sono in presidio permanente per protestare contro la vendita della ditta ad una multinazionale indiana che rischia di non garantire i livelli occupazionali precedenti. Nella mattinata del 31 sul posto si è recato il sindaco di Eboli Massimo Cariello che ha annunciato azioni congiunte per salvaguardare la struttura ed i posti di lavoro. Uno scenario nel quale si è inserito il blitz degli operai compiuto domenica 30 nel corso del concerto di fine anno tenutosi presso il comune di Battipaglia.